Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e in questa videoguida vorrei parlarvi di uno strumento molto interessante, ancora poco conosciuto qui in Italia, che invece è molto popolare negli States, è stato infatti proposto da alcuni docenti statunitensi e ha dilagato, divenendo uno strumento di uso molto comune. Cercheremo di capire in questa videoguida cosa sono questi hyperdocs, in che cosa possono essere utili, a cosa possono servire e quale sia la procedura per realizzarli. Comincerei dal nome hyperdocs, in italiano iperdocumenti, perché è iper? Perché contengono molti link a risorse distribuite nella rete e contengono molti elementi multimediali. Che cos'è esattamente un hyperdoc? Un hyperdoc è uno strumento che cerca di utilizzare le tecnologie digitali, ma soprattutto il web come ambiente di apprendimento. Cercando però di, e in questo ci riesce a mia opinione, di dare il volante agli insegnanti e agli studenti, cioè facendo degli studenti e docenti i veri protagonisti della comunicazione digitale e dell'utilizzo del web per l'apprendimento. Insomma, non siamo guidati dalle applicazioni, dalla esigenza di una conoscenza tecnica del digitale, ma da esigenze di tipo didattico. Vediamo che cos'è in poche parole un hyperdoc. Un hyperdoc è un documento online che noi condividiamo con i nostri studenti, che possiamo realizzare con una qualsiasi editor online. Può essere Google Documenti, può essere un altro editor web come Office 365 Online. Ebbene, questo documento che cos'è? Questo documento cerca di ridisegnare quella che è la lezione tradizionale, ma anche quelli che sono i tradizionali strumenti di verifica, cioè cerca di unire insieme questi due importanti momenti del percorso didattico, di apprendimento, utilizzando appunto lo strumento della comunicazione digitale. Un hyperdoc cosa contiene? Contiene delle risorse, risorse trovate dal docente, che il docente propone allo studente, agli studenti risorse che possono essere le più varie come formato, video, grafici, mappe, testi, documenti, eccetera, immagini, che sono in qualche modo collegate perché fanno riferimento a una tematica disciplinare, interdisciplinare, oppure a un problema di cui si discute. Inoltre fornisce agli studenti delle istruzioni su come usare queste risorse per costruire intorno a questo tema o problema un sistema di conoscenze che consenta agli studenti di affrontare i compiti e le attività che vengono proposte in questo documento e che lo studente deve svolgere. Vi rimando al link sottostante, si tratta di un articolo che ho scritto per presentare appunto gli HyperDocs in cui potrete trovare altre informazioni sulla loro origine, le loro caratteristiche. Bene, vediamo adesso esattamente come funziona la procedura. Prima di tutto perché tecnologia didattica? Perché l'HyperDoc offre una via privilegiata, facilitata per integrare le tecnologie nella didattica. Questo è un nodo problematico piuttosto cruciale perché spesso l'utilizzo delle tecnologie viene propugnato come di per sé salvifico, come cioè se il mero uso delle tecnologie producesse automaticamente un miglioramento e dell'insegnamento e dell'apprendimento. Non è necessariamente così, anzi non è per niente così se le tecnologie vengono introdotte nella didattica e se la didattica si piega alle tecnologie, insomma se la didattica viene guidata dalle tecnologie. In realtà il problema è molto complesso, è un problema di tipo pedagogico e didattico. Penso che tutti siamo consapevoli del fatto che l'innovazione tecnologica non produce innovazione didattica, né un miglioramento nella didattica, se non, perché può produrlo, se non si misura la tecnologia sulla didattica, cioè sulle concrete esigenze degli studenti, sugli obiettivi dell'apprendimento, sulla situazione concreta e specifica nella quale ci si trova a lavorare e così via. Bene, torniamo adesso al nostro HyperDocs, anzi ai nostri HyperDocs. Come detto sono documenti condivisi con gli studenti online che hanno la funzione di aggregare una serie di risorse multimediali su un certo argomento o problema. Possono essere, come abbiamo detto, articoli, video, mappe, link, tabelle, infografiche e così via. L'importante è che, anche aiutandoci con la grafica, noi siamo in grado di comunicare in modo chiaro agli studenti delle istruzioni, cioè cosa devono esattamente fare con queste risorse, dei compiti, quali attività devono svolgerle e come devono svolgerle, in modo da a formare una sorta di percorso che gli studenti devono compiere e in questo percorso dovranno affrontare quel che si dice situazioni autentiche, dove autentico non significa necessariamente situazioni reali, ma simulazioni di situazioni reali o comunque situazioni nelle quali dovranno affrontare problemi, dovranno risolverli. Naturalmente tutte queste attività è l'approfondimento, e l'apprendimento tramite le risorse che proponiamo è la soluzione dei compiti e delle attività, devono essere in qualche modo collegati tra di loro in modo da formare le tappe di un percorso che noi costruiamo per i nostri studenti in modo da guidarli, cercando di equilibrare le esigenze di scientificità disciplinari legate ai contenuti, alla conoscenza dei contenuti, allo sviluppo di abilità procedurali, metodologiche e logiche relative alle discipline coinvolte con quelle che sono le esigenze degli studenti. Gli HyperDocs nascono, come abbiamo detto, negli studenti ad opera di tre insegnanti, Lisa Eichfield, Kelly Hilton e Sarah Landis, che di fronte all'irrompere delle tecnologie digitali, al farsi sempre più pervasivo di queste, e i problemi che questo comporta, perché ci sono delle opportunità e ci sono anche dei problemi appunto, decisero di trovare uno strumento che fosse il più adatto, il più semplice per integrare, come dicevamo prima, le tecnologie digitali nelle attività di formazione che portavano avanti con i loro studenti, con l'avvertenza che abbiamo già detto, cioè non con una visione miracolistica delle tecnologie, ma con una visione pedagogica. La tecnologia è ancilla, per così dire, della pedagogia. Ma vediamo subito un esempio per capire meglio cosa sia un HyperDoc. Questo è un HyperDoc che ho costruito ad hoc come esempio per questa guida sulla rivoluzione francese, argomento che stiamo affrontando, anzi abbiamo affrontato con i studenti, e come vedete abbiamo un minimo di grafica che rende accattivante l'argomento, ma che è centrata, chiarisce anche quale sia esattamente l'argomento. Qui ho condiviso questo documento con gli studenti, o meglio, bisognerebbe condividerlo, lo studente mette qui il suo nome e cognome. Io ho usato un modello basato su tre momenti coinvolgi, esplora e valuta. Come vedete si tratta di un percorso che è incentrato su alcuni obiettivi principali ed è articolato in passi. C'è un minimo di grafica, riquadri, tabelle, colori e così via. Vediamo il coinvolgimento dello studente, si comincia a sviluppare l'argomento, deve guardare due video e poi devono creare un poster utilizzando Adobe Post, Spark Post e viene fornito loro anche un video tutorial. Inoltre devono inserire poi il link del loro lavoro in questo riquadro. Il secondo passo può essere per esempio costruire una timeline dopo aver letto questo documento e viene suggerita un'applicazione e proposto un video tutorial su questa applicazione. Poi abbiamo il momento esplorativo, il primo passo è raccogliere risorse video e creare una sorta di video album con un Zaz, mentre un altro gruppo dovrà ugualmente raccogliere risorse video, ma anche di altro tipo e creare una bacheca con Pinterest e qui dovranno inserire il link. Il secondo passo invece è osservare i primi 31 minuti di un documentario di Story Channel e poi usare Reclipped per ritagliare quelli che sono le sequenze più significative e in sé compiute ovviamente e costituire una sorta di riassunto, anzi di video riassunto. Qui dovranno poi mettere il link, sbagliato, del loro video riassunto. Ancora puoi valutare, vengono fornite delle indicazioni su come costruire in tre cartelle un testo su due tra gli autori più tradizionali, diciamo, della storiografia intorno alla rivoluzione francese, due interpretazioni anche differenti e qui dovranno scoprire che cosa sono le cartelle, quindi quante sono tre cartelle, dovranno andare a cercare informazioni su Michelet e così via, avrei potuto anche fornire io dei link. Ancora, in questo secondo caso dovranno leggere i testi indicati, la dichiarazione dei diritti universale, dei diritti dell'uomo e del cittadino e la nostra costituzione, i principi fondamentali e comporre un breve testo di dieci righe in cui cercano di individuare le principali analogie e differenze. Come abbiamo visto dall'esempio, trovate il link più qui sotto, si cerca di, attraverso un semplice documento di testo che noi possiamo riempire come docenti come vogliamo, di costruire un percorso mettendo insieme la tradizionale lezione e il tradizionale il compito, dando agli studenti l'incarico di costruire articolare delle conoscenze intorno a quell'argomento per poi sfruttarle, utilizzarle per risolvere dei compiti e risolvere dei problemi. Abbiamo cercato anche, e qui sta il docente, creare un documento, un hyperdoc che sia interessante, sfidante, significativo, che produca un apprendimento di tipo significativo. Certo, se mettiamo risorse banali, diamo agli studenti incarichi banali, viene fuori certamente un compito banale, un apprendimento banale. Certamente però possiamo, dicevo, sfruttare, scusa, il carattere coinvolgente del web e delle tecnologie digitali per cercare di proporre un percorso di apprendimento attivo e costruttivo centrato sullo studente, personalizzato, lo studente può apprendere al suo ritmo senza esagerare. La modalità è quella del blended learning, cioè dobbiamo integrare qualche momento in presenza di chiarimento, di discussione con un'attività che lo studente svolgerà online, con una valutazione poi dell'attività e dei prodotti di questa attività portati avanti dagli studenti, che si può fare per esempio nuovamente in presenza, ma come si vede l'hyperdoc è un strumento estremamente semplice da utilizzare, non dobbiamo imparare a usare un'applicazione tecnicamente complessa, è un documento in cui siamo noi docenti ad essere protagonisti e a dover intessere un'attività e un percorso che siano interessanti e significativi per i nostri studenti. Ovviamente in tutto ciò sono chiamati in gioco anche obiettivi di media education, quindi comunicare, interpretare differenti codici comunicativi, il video, l'audio, le immagini, il testo eccetera e differenti competenze digitali perché gli studenti dovranno lavorare con tante applicazioni. L'hyperdoc presenta differenti vantaggi, prima di tutto è estremamente flessibile perché appunto, come dicevo, non è un'applicazione diretta a produrre un determinato contenuto, ma è semplicemente uno strumento per svolgere attività simili a quelle che si possono svolgere anche in modo non digitale e quindi lo possiamo adattare a ogni tipo di situazione. Dà al docente l'effettivo controllo, il docente è protagonista insieme allo studente, nel senso che abbiamo una notevole libertà d'azione, possiamo impostare un percorso di apprendimento che preveda un equilibrato mescolamento di conoscenze, di risorse, di attività, di compiti, di problemi, seguendo differenti metodologie, magari basando i nostri compiti sulla ricerca, l'apprendimento per ricerca, l'apprendimento per problemi o l'apprendimento cooperativo perché possiamo provare per un hyperdoc a cui devono lavorare a più umani differenti gruppi di studenti, oppure possiamo seguire differenti approcci, un approccio narrativo più indirizzato alla cura dei contenuti o alla costruzione cooperativa delle conoscenze. A seconda di come siamo capaci di articolare il nostro hyperdoc potremmo fare riferimento a diverse teorie dell'apprendimento, che sono il costruttivismo sociale, l'apprendimento significativo, il cosiddetto CSSC, cioè il modello costruttivo, autoregolativo, sociale e collaborativo, chiedo scusa volevo dire non sociale ma situato, perché l'hyperdoc ci consente di intervenire ad hoc su una certa situazione. Inoltre favorisce certamente nello studente perché lo costringe a cercare, a confrontare, a valutare, a rielaborare capacità come quelle del pensiero creativo, del pensiero critico, ma anche competenze come le competenze digitali, pensiamo soltanto al cosiddetto app smash, cioè all'utilizzare insieme più applicazioni, che significa anche superare la logica del rinchiudersi in un'applicazione per magari conoscere perfettamente come è successo con l'applicazione, al punto che i contenuti passano in secondo piano, ma usare più applicazioni per fare tante cose insieme, competenze di tipo comunicativo, non solo apprendere e comunicare con i media, perché gli studenti come nell'esempio sono chiamati a realizzare una presentazione, a realizzare un post, a realizzare un testo, a realizzare una timeline e così via, ma anche apprendere i media e quindi quei codici comunicativi che sono propri dei differenti linguaggi, dei differenti formati, dei differenti media, e inoltre capacità di tipo metacognitivo, perché possiamo sviluppare, dobbiamo imparare, dovremmo imparare soprattutto i nostri alunni a usare i video, per esempio a fare un video riassunto, un hyperdoc può servire anche a questo, quindi sviluppare metodologie di apprendimento più personalizzate e quindi anche sviluppare una maggiore autonomia nella formazione, avere anche la capacità di valutare sia il percorso che il prodotto che questo percorso ci porta a compiere. Per esempio, portando avanti questo percorso e costruendo i vari contenuti che vengono proposti, lo studente dovrà fare delle scelte che avranno delle conseguenze operative e di cui dovrà valutare anche la correttezza, dovrà indirizzare il risultato del suo lavoro e pubblicarlo indirizzandosi a un pubblico reale, non al docente, perché vanno pubblicate online queste cose e devono essere pubbliche, perché deve confrontarsi con la realtà in questo senso lo studente, inoltre dovrà mettere insieme o comunque confrontare diversi punti di vista e differenti prospettive. Insomma, è piuttosto interessante il lavoro che si può fare. Ecco, questo è un hyperdoc che io ho realmente utilizzato con i miei studenti, è sulla rivoluzione francese, come vedete qui ci sono delle istruzioni, una tabella, qui lo studente deve mettere i vari link, c'è un complesso sistema di punteggio, di stelle, eccetera, e questi sono degli esercizi, non è un hyperdoc nel senso stretto del termine, perché io qui propongo soltanto degli esercizi poi gli studenti con le discussioni, le lezioni tenute in classe con il loro libro e usando internet, hanno svolto alcuni di questi esercizi, per esempio costruire un menu indirizzato a tre diversi tipi di clientela, il nobile, il borghese ricco del terzo stato e il sanculotto, quindi dovevano andare a cercare quali alimenti esistevano a quell'epoca, qual era la moneta di quell'epoca, come si chiamavano le storie a quell'epoca, eccetera, lavoro di ricerca, cura dei contenuti, confronto, esame critico, eccetera, oppure dovranno narrare in prima persona, dovranno personificare degli oggetti o dei luoghi tipici della rivoluzione e raccontare in prima persona la ghigliottina che racconta in due o tre minuti con un podcast quello che succede intorno a lei, oppure con Google My Maps dovranno creare una sorta di guida turistica dei luoghi della rivoluzione, commentando, integrando con informazioni, testi, documenti, eccetera, oppure un videotrailer a sostegno, pro o contro certi personaggi o certi eventi della rivoluzione e così via, per esempio creare una cosiddetta mood board su determinati personaggi, raccogliendo insieme indizi, segni, immagini, oggetti che ricordano in qualche modo quei personaggi, oppure ancora creare delle schede segnaletiche sul modello delle schede segnaletiche di polizia su alcuni personaggi della rivoluzione francese, quindi fare un lavoro di ricerca, oppure indagare su certi casi il massacro del campo di Marte e scoprire cosa era realmente successo, andare a verificare in rete le varie versioni e le varie fonti e così via. Proprio per la sua natura così versatile, così plastica, l'hyperdoc può essere organizzato secondo vari modelli, qui ho messo alcuni link di documenti che propongono dei modelli, il modello delle 5E per esempio, che ci può servire da guida di riferimento per comporre il nostro hyperdoc, il ciclo dell'apprendimento basato sul coinvolgimento, l'esplorazione, la spiegazione, l'elaborazione e la valutazione. Ecco, questo potrebbe essere un modello, un altro modello per un approccio narrativo all'hyperdoc potrebbe essere il viaggio dell'eroe, secondo lo schema ufficializzato in qualche modo dal libro di Vogel, appunto l'omonimo libro di Vogel, quindi la chiamata all'avventura, l'eruzione del mondo sconosciuto, l'incontro col mentore e così via, in cui quindi seguiamo le fasi della struttura narrativa per guidare gli studenti nel sviluppo di un'attività e nello sviluppo di determinate conoscenze. Nel documento che vi ho linkato in precedenza sono presenti anche altri modelli, si tratta di documenti condivisi pubblicamente in Google Drive, c'è anche un modello chiamato Agenda che segue quello che è il metodo della pianificazione delle scuole Montessori, ma appunto tradotto in formato digitale per cui dare gli alunni nell'arco per esempio della settimana, a tutta una serie di attività funzionali a determinati obiettivi. Qui ho messo alcuni video tutorial, si tratta di video tutorial, si tratta di presentazioni che ci hanno di spiegare cosa sia l'hyperdoc, come si possa utilizzare, un po' come ho fatto io in italiano, dato che non ho trovato niente in italiano su questo argomento. Bene, concludo dicendo che a me l'hyperdoc mi è piaciuto, certo non è lo strumento che permetterà di risolvere alla scuola i suoi problemi, è un altro strumento che può essere opportuno utilizzare a seconda delle circostanze, però presenta qualche vantaggio interessante perché è centrato sull'attività del docente ed è guidato dalle esigenze dei docenti e della tecnologia, chiedo scusa, degli studenti in suo utilizzo e non dalla tecnologia e quindi offre un interessante approccio all'integrazione del digitale nella didattica. Tutto nell'hyperdoc dipende dalla capacità che ha il docente di proporre una serie di attività interessanti, quindi un piccolo strumento che può avere una sua utilità, che può essere adatto anche agli studenti più piccoli, perché possiamo usare degli hyperdoc molto semplici, dipenderà appunto da noi farlo funzionare o non farlo funzionare. Vi ringrazio e vi auguro una meravigliosa giornata.